Allora ragazzi, partiamo da Anastasia. Anastasia è un film molto controverso e lo è anche per me. Allora, molti addirittura lo associano ancora a Disney, molti credono che sia un classico Disney, in realtà non è un classico Disney per un cazzo. Ma perché? È della Fox Animation Studios. Ma perché molti credono che sia della Disney? Perché dentro alla regia c'è Gary Goldman e Don Bluff, soprattutto. Don Bluff è uno che ha lavorato tantissimo tempo per la Disney, che è un tratto molto molto disneyano, rotondo, morbido. Soprattutto la Disney l'ha fatta, l'ha creata. L'ha creata no, però l'ha portata avanti in un certo senso. Solo che nel periodo un po' più oscuro dei classici Disney, Don Bluff ha detto Senti, ragazzi, io non mi rispecchio più in questo studio. L'animazione è mai diventata un optional. Pensate ai gadget, pensate ai marchi a tema, pensate a tutto, tranne che all'animazione è fatta come si deve. Quindi io, dato che abbraccio la filosofia del vecchio Walt, ovvero proprio non schiavismo, ma comunque dedizione totale, folla all'animazione, tutto deve essere perfetto. Tra l'altro Walt Disney infatti digerì con amarezza il boccone del periodo Xerox, ovvero Carica de 101, Robin Hood e Affini, proprio perché si andava a togliere qualcosa alla qualità per poter risparmiare e far galleggiare ancora gli studio, stato che non erano messi bene dopo il flop della bella addormentata nel bosco. Quindi, figuratevi, Don Bluff, quando si ritrovava a fare Redd e Tobi, dove tutto era appunto molto rapido, molto spartano, i particolari non erano importanti, la cura del dettaglio ormai era morta, nonostante molti si ricordino con affetti quei classici Disney, Don Bluff non era d'accordo con quella nuova filosofia Disney e se ne andò, e fondò un suo studio all'animazione, ovvero la Don Bluff Production. La Don Bluff Production, tra l'altro, creò tanti film interessanti, compreso Nisbe, Il Segreto e Nenim, che bagnò il naso effettivamente a Disney, perché Disney si accorse che uno studio concorrente aveva fatto un classico Disney, non marchiato Disney, e a un certo punto Don Bluff arrivò addirittura a dirigere questo Anastasia, che aveva effettivamente degli scopi molto alti, insomma degli obiettivi molto alti, ovvero cercare di fare un classico Disney con una principessa, tra virgolette, moderna, tra virgolette, realmente esistita, con un cattivo realmente esistito, non in quel modo ovviamente, e purtroppo, secondo me, Anastasia non ce l'ha fatta a raggiungere quell'obiettivo. È un film sicuramente molto interessante, soprattutto se lo vediamo come un esperimento, è un film bello da vedere, perché è realizzato veramente, veramente in maniera sopraffina, ma purtroppo è forzatissimo, perché a differenza di Brismi e Il Segreto di Nenim, dove vediamo un'atmosfera, appunto, cupa, violenta, anche addirittura, e vediamo una Disney un po' la vecchia maniera, ovvero tanti momenti gioiosi, ma anche tanti momenti cupi che fanno crescere i personaggi, qua invece vediamo un revisionismo storico veramente assurdo, che mi faceva dire, ma siamo sicuri, ma davvero vogliamo arrivare a questi livelli? È un po' troppo, soprattutto se questo revisionismo lo colleghiamo a un cartone animato. Non l'ho apprezzato tanto. È sicuramente, ripeto, un film bellissimo da vedere, a tratti molto emozionante, è un film che effettivamente ricalca un po' le vecchie atmosfere Disney, ma che se ci soffermiamo a studiare la storia e la sceneggiatura, appunto, in generale, di questo film, capiamo che c'è qualcosa che effettivamente non va, e le forzature, anche storiche, sono forse un po' troppe. E quindi non ce l'ho fatta ad apprezzarlo fino in fondo, nonostante consiglio comunque una visione, perché ci sono certe canzoni molto belle, e, ripeto, certi momenti emozionanti, e comunque ci sono, ripeto, delle cose interessanti da studiare, da abbracciare, e che possono far capire cosa stava cercando di fare il Fox Animation Studios in quegli anni, perché si parla di un film del 97, quindi in pieno rinascimento Disney. Cercavano effettivamente anche loro di collocarsi, di ritagliarsi il loro spazio, e l'hanno fatto, secondo me, in maniera un po' maldestra, ma comunque l'esperimento è apprezzato. E fa anche paura, è un po' creepy, effettivamente, Anastasia, e ci sta a me quel mood creepy con le atmosfere, con il disegno disneyano, lo tratto disneyano, le apprezzo sempre. Io lo metterei però in C, ecco C, sicuramente, che non è un brutto voto, raggiunge pienamente la sufficienza, ma non è uno dei miei preferiti del Fox Animation Studios. Bartok l'ho visto, l'ho visto come tutti in VHS, e paradossalmente, nonostante non lo riguardi da, penso, 20 anni, Bartok me lo ricordo, me lo ricordo abbastanza, e mi ricordo che da ragazzino, vabbè, ora ci... Scam, cosa? Bartok il Magnifico era molto divertente, ovviamente si va a prendere il comprimario, l'oiago di turno, perché Bartok era l'oiago di Rasputin, e lo andiamo a collocare in questo film dove deve superare delle prove per arrivare, in fondo, arrivare ad un obiettivo. Insomma, è molto lineare. Se arriva, si si parte da un punto A e se arriva a un punto B. Non ci sono grossi colpi di scena, non ci sono particolari flashback emozionanti, non ci sono picchi narrativi incredibili, ma fa il suo dovere. È un film sempre diretto da Don Bluff, incredibile, che dirige anche questo spin-off, possiamo dire sì, uno spin-off di Anastasia, fatto due anni più tardi, addirittura nel 99, e niente, è un simpatico, questo simpatico pipistrellino che deve affrontare queste prove. Le prove erano molto simpatiche, a me poi questa progressione con le prove, i bivi, mi piace sempre, e me lo ricordo con affetto. Però rimane quello, rimane un direct to video senza tanti guizzi creativi e senza tanti colpi di scena interessanti. Insomma, è un filmetto così. Quindi Anastasia 151 e G l'ha messo in A, Dario. Lo capisco, però per me no. Io lo metterei in D, Bartok, dai, niente di più. Però se metto in D, Bartok, no, facciamo così, dai, mettiamo in B Anastasia, non siamo cattivi, e mettiamo in C, Bartok, dai, facciamo così. Allora, Titania è un film molto complicato. Molto, molto complicato. Perché è un film che si va a collocare in un periodo molto difficile per l'animazione. Siamo negli anni... è proprio il 2000. Anni, proprio nel 2000. E c'è un passaggio dall'animazione 2D all'animazione 3D. Pixar ha gettato le basi, sbiglietta come pazzi, sta già settando il trend dell'animazione verso una sempre più presente computer grafica all'interno dei film. E soprattutto è un periodo dove escono tanti esperimenti disneyani. È un film, secondo me, molto sottovalutato. Anche questo, prodotto stavolta da Don Bluff, è girato da Don Bluff, è sempre dal solito Gary Goldman. Secondo me, a differenza di Anastasia, questo Titan A arriva un po' di più. Perché è un film molto interessante, è un film di fantascienza molto figo, è molto cupo, molto adulto, secondo me non era stato concepito tanto per i bambini. E secondo me, addirittura, arrivando due anni prima del Pianeta del Tesoro, ha influenzato anche un po' la Disney nelle scelte fatte nel Pianeta del Tesoro. Perché comunque, anche qui, ci sono dei riferimenti molto diretti. una mappa da trovare, una strada da seguire, c'è un gruppetto di personaggi che, appunto, percorre questa avventura. Io me lo ricordo come un film molto interessante, molto sperimentale, animato molto bene, che faceva anche... che faceva un uso anche della 3D, se non ero, forse, un po' troppo acerbo rispetto già agli standard della Pixar. Però, io me lo ricordo come un film coraggioso. Sicuramente l'ho apprezzato più di Anastasia, forse perché il genere fantascientifico lo apprezzo di più di quello storico, comunque del dramma storico, e quindi io lo metterei in B. Perché, nonostante la sperimentazione, nonostante l'avventura che è veramente appassionante, nonostante l'elemento fantascientifico che è veramente prorompente, anche interessante, Titan A non è riuscito a colpirmi come ha fatto, invece, il Pianeta del Tesoro, che mi ha emozionato tanto, i personaggi li ho trovati anche meglio scritti rispetto a Titan A, e forse il fatto di parlare a dei ragazzi di quella generazione lì, degli anni 2000, da parte di Don Bluff, ecco, questo scontro generazionale non è andato molto bene, infatti spesso i personaggi galleggiano un po' troppo, e non sono molto credibili, come invece sono nel Pianeta del Tesoro. I personaggi sono molto credibili, il protagonista è un ragazzino ribelle, perfetto, Long John Silver è perfetto, il loro rapporto è perfetto, mentre il protagonista di Titan A non mi ha convinto più di tanto, e a volte risulta addirittura un po' piatto, quindi lo lascio in B, mentre il Pianeta del Tesoro della Disney, in una mia ipotetica tier list Disney, probabilmente andrebbe in S, anzi, probabilmente in passato l'ho già messo in S, perché è una bomba, è una bomba che dovreste vedere tutti se non avete mai visto. Quindi il paragone purtroppo c'è, nonostante il Pianeta del Tesoro sia uscito più tardi. Due anni più tardi, 20th Century Fox fa una collaborazione col Blue Sky Studios e produce un film che è stato un successo commerciale enorme. Ice Age, l'era glaciale, che è stato di fatto il mio primo DVD. Allora Ice Age è un film che funziona tantissimo, tantissimo. È un film molto divertente, è un film corale perfetto, perché tutti i personaggi funzionano, hanno qualcosa da dire, mi hanno ricordato tra l'altro i musicanti di Brema, non so se avete mai letto La Favola, dove un animale incontra un altro animale per formare un gruppo sempre più forte e sempre più coeso, nonostante ci siano delle scherze all'interno del gruppo che saranno un po' il motore del film. Però ecco, i personaggi li ho trovati interessanti, tutti, dal primo all'ultimo. L'avventura, il road movie, funziona sempre, perché funziona, è molto toccante anche il rapporto che si crea tra gli animali, tra il bradipo, il mammut, il seed, insomma tutti gli altri, e il bambino, il bambino preistorico, ed è, insomma, l'avventura è interessante, le gag con Scrat funzionano, cioè che ragazzi sono i master immortali e indelebili in tutti i nostri cervelli, e quindi, dai, Ice Age io lo metterei in S, perché è un film ben realizzato, è un film corale molto divertente, appassionante, anche a tratti toccante, certo, non è un film che scommette più di tanto, perché non ci sono cose mai viste o robe che dici cazzo, questo non l'ha mai fatto nessuno, perché comunque il personaggio che vuole portare il bimbo a morire praticamente, l'abbiamo già visto in passato, che poi si converte perché si affeziona, insomma, sono tutte cose che abbiamo già visto, il rapporto conflittuale tra personaggi durante un road movie l'abbiamo sempre visto, soprattutto nell'animazione, però ragazzi, ripeto, le gag slapstick di Scratto funzionano tantissimo, il film funziona tantissimo, il road movie funziona, la qualità è eccelsa, lo stile tra l'altro dei personaggi riesce a entrare nella mente del pubblico nonostante Pixar già nel 2002 avesse influenzato completamente il mondo, con questo stile un po' più maturo, un po', anche, non so se vi ricordate i protagonisti umani, erano tutti scolpiti, tutti belli progistori, tutti belli tozzi, sbilenchi, è riuscita, è un'estetica che è riuscita ad allontanarsi da quella più morbidosa e rotondeggiante della Pixar e allo stesso tempo è riuscito a settare un nuovo trend, il trend era glaciale che poi l'ha portato un po' alla rovina. Però, insomma, di questo parleremo dopo e quindi approvatissimo, è invecchiato anche bene perché l'ho visto di recente in Blu-ray è veramente invecchiato bene, viva l'era glaciale e quindi in questa ipotetica tier list di Fox Animation Studios anche se qui si sta parlando di Blue Sky, questo deve andare necessariamente in S. Allora, Ice Age 2 mi è piaciuto molto, l'ho trovato molto interessante, l'ho trovato interessante perché allontanarsi dal concetto di rapporto umano e animale per avvicinarci a disperazione di Manny di essere rimasto l'ultimo Mammoth e di trovare una speranza nell'altra Mammoth, la Mammoth femmina che però è un po' tocca, ecco, io l'ho apprezzata davvero tanto, l'ho apprezzata tanto perché credi di aver conosciuto questi personaggi nel primo capitolo e con il secondo capitolo il pubblico capisce che non ha ancora scoperto tutto, io ripeto con il primo capitolo ho detto vabbè abbiamo conosciuto questi personaggi che cazzo mi devono raccontare sì della classica macchietta Manny con un po' burbero che rompe i coglioni insomma tutti avevano un ruolo ben stereotipato invece questa scelta di andare ad approfondire ancora di più i personaggi con il secondo per metterli in difficoltà col blocco di ghiaccio che si scioglie eccetera eccetera e metterli in difficoltà con questa parlando di estinzione parlando di ultimi esemplari rimasti in vita l'ho trovata veramente un'idea interessante e un'idea che secondo me è coraggiosa per il pubblico dei più piccoli quindi l'ho trovato un buon film un film gradevole un film che ti fa affezionare ancora di più a questo esercito di personaggi anche anche Diego non è male insomma è un film che ci stava è un film che ci stava e che l'ho trovato anche commovente a tratti quindi lo approvo lo approvo totalmente bravi hanno fatto un bel sequel che secondo me non arriva all'iconicità del primo ma che comunque se la cava quindi lo metterei in A vedo che c'è molta confusione il 3 capolavoro il 3 una merda cioè uno dopo l'altro tra l'altro i commenti allora secondo me no ragazzi secondo me la verità sta un po' nel mezzo il 3 è un film che io ho visto che non trovo un brutto film che però purtroppo è solo divertente perché comunque viene introdotto in maniera leggerissimamente forzata il mondo dei dinosauri e quindi vedere i dinosauri animati soprattutto se sei un bambino può riempire il cuore ma se ti soffermi a paragonare il primo e il secondo capitolo con il terzo insomma i personaggi iniziano a perdere un po' la loro carica emotiva sì c'è la componente familiare loro hanno un bambino hanno provato a introdurre questa cosa però insomma sì ormai è una parodia di se stesso Scrat continua con le gag che iniziano ad essere un po' stanchine l'unica novità interessante è appunto il discorso dei dinosauri con la mamma T-Rex che è divertente però è un film che rimane solo in superficie cioè che un po' come la Dreamworks dei vecchi tempi capisce la formula la ripropone ma non aggiunge niente di nuovo perché Ice Age 2 mi era piaciuto l'Era Graciale 2 mi era piaciuto perché comunque si cercava di andare a sviscerare un po' di più i personaggi si cercava di andare a proporre qualcosa di nuovo qui la novità sta nell'ambientazione sta nell'idea di far cicciare fuori i dinosauri e di farli interagire con i nostri personaggi e in un certo senso far andare di pari passo la situazione familiare della mamma Rex con Manny e famiglia però però ecco se hai più di dieci anni difficilmente l'Era Graciale 3 ti colpirà come invece può aver fatto il primo o il secondo capitolo quindi io lo metto in B perché comunque è un film divertente senza fame senza lote e poi c'era Buck che comunque era un personaggio divertente molto divertente un po' come i pinguini di Madagascar si è ritagliato la sua fetta di pubblico la sua fetta di affezionati adesso ragazzi però arriviamo al delirio l'Era Graciale 4 allora io ero al cinema te l'ho visto io al cinema mi sono seduto e quando ho visto qual è il motivo scatenante che porta ad aprirsi il film che porta alla genesi della trama di questo film ho detto no non ci posso credere no 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 è quello ragazzi dove Scrat apre la crepa gigante al centro della terra con la ghianda cioè loro prendono una gag dei primi film e la usano come gag per aprire la trama del film che che pensi cazzo però geniale no cioè il quarto film si chiama La deriva dei continenti proprio perché c'è la pangea che si spezza e forma nei continenti moderni ed è stato Scrat a generare tutto questo perché con una ghianda che si infila parte la deriva dei continenti quindi cosa succede c'è i soliti nostri personaggi Sid Manny Diego insomma Ellie e quell'art che cercano di ah è allegorico certo che cercano di salvarsi sulla calottina di ghiaccio insomma ragazzi è un film veramente dimenticabile è un film veramente ecco qui si capisce insieme al 5 ecco se ce lo mettono in mezzo me lo levo di culo si capisce che qua non avevano proprio più idee anzi nel 5 questa roba di prendere Scrat di renderlo protagonista del film assoluto ti fa capire quanto anche nel 5 nel 5 mi pare c'è anche lo spazio ma non vorrei dire cazzate ma mi pare c'è Scrat che va nello spazio vi prego ditemi se mi ricordo male o se ho flashato io però mi pare che nel 5 perché l'ho dimenticato nel 5 c'era lui che andava nello spazio si in un UFO ecco questa roba qui a me mi fa cacare perché la bellezza diciamo le cose come stanno la bellezza del primo e del secondo e anche parzialmente del terzo qual era? che erano storie semplici l'era glaciale era il teatro ok? di questo di questi drammettini tra personaggi di queste scene di vita familiare di questi di questi come si può dire di questi rapporti che si creano tra questi animali che hanno tutti un carattere diverso che hanno tutti scopi diversi ed era molto bello perché nel primo c'è il rapporto appunto tra bestia e uomo che possono superare diciamo la catena possono bypassare la catena alimentare per avere un affetto nel secondo c'è appunto il dramma dell'estinzione il dramma della morte nel terzo c'è la famiglia il tema della famiglia qui invece il tema si perde si perde si perde cioè perché lascia il posto a troppe gag a personaggi veramente stanchi e il surreale è il demenziale che veramente cancella tutte le idee buone che c'erano invece nei primi capitoli quindi io metterei il quarto in D e il cinque lo metto in F guarda Roboots invece è una bomba un po' come Zootropolis faccio questo esempio enorme che prende la nostra società e la trasforma in una società animalesca e quindi tutto quello che noi vediamo nella realtà viene trasformato a forma di animale che sia piccolo come un cricero o gigantesco come un gorilla un rinoceronte qui succede la stessa cosa cioè il mondo che noi vediamo ovvero il mondo che ci circonda la nostra vita quotidiana i nostri affetti il terreno che calpestiamo gli oggetti che utilizziamo tutto diventa robotico pieno di bulloni circuiti praticamente Roboots è i Fleastons ma con i robot perché tutto è straordinario tutto c'è un'idea un'idea di design una genialità in qualsiasi cosa quando si guarda una puntata di Fleaston si dice guarda che cazzo sono inventati per fare il trita rifiuti guarda che cazzo sono inventati per fare l'autolavaggio con i dinosauri che lavano la macchina ecco stessa cosa ma con i robot quindi fighissimo ed è molto bello perché il design dei personaggi è anche gazzissimo perché c'è il personaggio un po' più poveraccio c'ha l'acciaio l'acciaio del come si può dire del loro corpo un po' più sbiadito un po' più arrugginito invece i ricchi scintillano sono dorati hanno questi pezzi tutti belli perché poi ovviamente c'è anche quella componente l'interessante ovvero se sei ricco ti compri pezzi nuovi arricchisci il tuo corpo se invece fai schifo vai agire con gli scarti ovviamente ci sono anche gli outsider che vivono nella loro città tutti fatti di scarti veramente veramente straordinario perché il capitalismo viene raccontato attraverso questo stratagema ovvero sei ricco bene comprati pezzi e se ti compri pezzi sei bello la gente ti vede in giro e scintilli sei pieno di accessori sei pieno di orpelli invece se sei una merda vai agire con gli scarti che trovi alla disfattura veramente veramente fighissimo e il villain ragazzi soprattutto ha un design allucinante veramente veramente figo tra l'altro c'è Carlo Valli che doppia Fender perché Robin Williams doppia Fender nella versione originale no il doppiaggio originale raganzo a parte facchinetti che fa Rodney protagonista non si poteva sentire non si poteva sentire però Carlo Valli che doppia Fender funziona guardatelo perché ovviamente qual è il sgominiamo il ma andiamo a fanculo il cattivone rovesciamo il potere possiamo dire si distopico i perdenti avranno la meglio sui ricchi figli di puttana questa è la solita avventura dei cartoni animati che si ritrova in tantissimi cartoni animati però questa trama che abbiamo già visto un po' ovunque ovvero un esercito di personaggi un po' ai lati della società ai margini della società addirittura dei pazzi che si vestono di rottami possono rovesciare il potere salvare il mondo e far capire alle persone che non conta essere vestiti essere composti da pezzi di lusso ma quello che conta lo spirito roba già vista ci mancherebbe ragazzi lo capisco ma un po' come in Ice Age Blue Sky Studios e soprattutto il regista Chris Wedge in combo con Carlos Saldana è riuscito a creare un mondo credibile un mondo fantastico un mondo che ti fa sgranare gli occhi nonostante siano passati quanto? 16 anni quindi un plauso perché è invecchiato benissimo ed era per i tempi a studio soprattutto quando mi pare a un certo punto c'è uno tsunami di pezzi robotici madonna quella scena era incredibile quindi lo metto in S perché è uno dei miei preferiti vaffanculo Ortone oddio Ortone mamma mia con De Sica che doppiava mi pare sì c'era Christian De Sica che doppiava lo doppiava Jim Carrey noi abbiamo chiamato Christian De Sica lo sapete che non lo ricordo bene Ortone ragazzi mi ricordo delle scene elefante grosso e gente piccola su un fiore sì sì ma ce l'ho alle mie scienze però non mi ricordo se mi piacque non mi piacque io credo di averlo visto ai tempi e poi basta avevo 18 anni quando è uscito mi dispiace mi aggiornerò perché non me lo ricordo proprio ragazzi Simpsons il film io lo metto in S quando vidi per la prima volta i Simpsons il film risi ai titoli di testa dove appariva Ralph nella O di 20th Century Fox cantando il motivetto della 20th Century Fox fino alla fine ed era un film straordinario un po' deludente però a me non ha deluso per niente e vi spiego anche perché perché ci sono delle scene che fanno straridere però di base il film è un film leggero divertente che non ti fa piegare come una delle prime puntate delle prime stagioni dei Simpsons ci mancherebbe ma secondo me è una scelta voluta perché il film a parte delle scene secondo me bellissime tipo quando c'è l'identikit della famiglia Simpsons e c'è il tizio nel cos'era una specie di forse supermarket che fa eccoli sono loro li indicano c'è una versione dei Simpsons fatta come l'identikit nella realtà quella per esempio è una scena un autogrill quella è una scena fantastica o la scena dei green day che finiscono mi pare nell'acido cioè ci sono delle robe veramente bellissime all'interno del film ma tantissime altre anche l'idea della cupola spazznega ragazzi ci sono veramente delle stronzate dentro clamorose ma quello che mi è piaciuto tanto è il fatto di aver dato dignità al mondo dei Simpsons questo film è proprio un tributo d'amore nei confronti dei Simpsons forse l'ultimo tributo d'amore nei confronti dei Simpsons perché c'è quello che contenevano le prime puntate le prime stagioni tanti momenti divertenti da sbellicarsi tante gag impreviste come la fantastica sequenza di Bart sullo skate nudo che viene sempre censurato da qualcosa e poi a un certo punto si vede un pezzetto dove si vede proprio il pisellino di Bart quella è una scena secondo me incredibile però il resto è una leggerezza posso dire malinconica perché si ride si tiene sempre il sorriso sulle labbra però è anche bello è bello il rapporto tra Homer e Marge con Homer che registra quella no con Marge che registra quella VHS secondo me straordinaria che decide di ritornare a Springfield perché quella è casa sua è bella la scena della fiaccolata contro i loro perché comunque è colpa di Homer si è andata tutta puttane c'è questo bellissimo rapporto tra la famiglia Simpson e il capo famiglia ovvero Homer c'è una gag per ogni personaggio storico del brand come per esempio Nelson che ride di Bart appeso nudo fino al tramonto mi ricordo questa scena molto bella insomma è un film che contiene tutto lo spirito dei vecchi Simpson ovvero scene da sbellicarsi surreali demenziali scene leggere che ti rincuorano e anche quella profondità che mi ha ricordato appunto i vecchi Simpson ovvero i rapporti che c'erano tra i vari personaggi rapporti che sapevano non prendersi per nulla sul serio che poi sapevano approfondirsi sapevano diventare drammatici quando necessario ai fini della trama stupendo quindi Simpson è il film davvero cioè perché è un un compendium di quello che ci hanno regalato i Simpson e di quello che ci ricordano ancora con affetto i Simpson per il resto dopo forse questo film non c'è stato altro che mi ha colpito dedicato a questo brand anche la qualità visiva era bella tra l'altro con l'introduzione del 3D c'era anche il 3D per esempio la pancia di Homer in quel film era in 3D queste cazzate veramente figo secondo me l'unica gag che non funziona è proprio Spider Pork che ci puntano veramente troppo però anche quella cosa lì è assurda demenzialissima che c'è poi Rio vogliamo parlare di Rio vabbè Rio è un film simpatico con questo pappagallo in via di estinzione che trova la compagna si odiano c'è questa avventura dove poi ovviamente si riscoprono è carino un film è carino tra l'altro il poveraccio il pappagallo protagonista si è estinto per davvero è un film sull'estinzione di questo pappagallo si è estinto tra l'altro questo film ha anche annullato un progetto Pixar che si chiamava Newt un film su una salamandra in via di estinzione che deve accoppiarsi con un'altra salamandra uguale della stessa sua razza si odiano l'hanno cancellato proprio perché era troppo simile a Rio e l'ho visto carino coloratissimo proprio perché ovviamente in tema Brasile è ovviamente un Brasile all'acqua di rose però va bene ci sta per i bimbi lo metto c'è un film senza infamia e senza lode è divertente per i bimbi più che altro non è che mi abbia sconvolto più di tanto lo metto in C no in B dai in B dai si merita la vita rio 2 ma non pervenuto ma proprio annoiato ma annoiato lo metto in D un film che secondo me non c'era bisogno di fare che hanno fatto hanno voluto fare tutti i costi lo metto in D ma no allo stesso livello di Anastasia effettivamente no la mettiamo non ci dai un po' troppo forse però a questo punto metto rio 2 ne facciamo così ragazzi leviamoci la roba semplice Fantastic Mr. Fox cioè dove lo vuoi mette l'abbiamo visto anche insieme un film è incredibile incredibile è una cosa incredibile tratto ovviamente da un libro di Roald Dahl uno dei migliori scrittori per ragazzi mai esistiti su questa faccia della terra Furbo il signor Volpe in italiano film incredibile di Wes Anderson che ci regala uno dei migliori Wes Anderson di sempre insieme all'Isola dei Cani fantastico personaggi incredibili momenti surreali grotteschi alla Wes Anderson una regia ovviamente straordinaria i tre fattori sono incredibili visivamente è eccezionale qualcosa di incomprensibile per l'umana stirpe bello bello il rapporto tra il signor Volpe e il suo figliolo è incredibile anche il rapporto tra lui e lei il rapporto anche col topo bevitore è geniale veramente veramente fighissimo veramente fighissimo e io quando l'ho visto sono rimasto piacevolmente colpito perché è stato il mio primo romanzo Furbo il signor Volpe cioè il primo romanzo per ragazzi diciamo e Roald Dahl è stato il mio primo autore e quando ho saputo che Wes Anderson sarebbe occupato della trasposizione animata di questo libro sono rimasto veramente scioccato e quando sono andato a vedere al cinema sono rimasto ancora più impietrito l'abbiamo visto insieme la scena con il lupo tra l'altro è iconica forse la scena più bella del film ragazzi niente da dire va in esse e basta un film che tutti dovrebbero vedere grazie a Wes Anderson per averci regalato questa perla veramente eccezionale ah ok il film dei Peanuts il film dei Peanuts è molto 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 bellino molto bellino ero molto preoccupato perché un film in 3D dei Peanuts della striscia probabilmente a fumetti più famosa di tutti i tempi non era un film assolutamente facile da dirigere però nonostante gli manchi forse la profondità di Schultz la cattiveria anche di Schultz in certi tratti ma quello che mi ha colpito lo vedi in anteprima Luca prima degli altri prima dell'uscita ufficiale nelle sale è che era una storia molto leggera che prendeva le caratteristiche principali più conosciute di tutti i personaggi dei Peanuts compreso dello stesso Snoopy e le condensava in questo film ripeto non è profondo come la striscia non è sfaccettato divertente a tratti malinconico come la striscia ma riesce comunque ad essere un ottimo tributo a Schultz e ha la sua più famosa creazione e mi piace soprattutto come è stato animato perché è stato animato sì in 3D ma con questa animazione molto scattosa molto frammentata che ricorda un po' l'animazione tradizionale e soprattutto ricorda la vecchia trasposizione animata in 2D chiaramente della striscia di Schultz quindi per me è approvatissima molto divertente da vedere è veramente straordinario molto alto allegro colorato divertente lo approvo totalmente per me è un una epic ho dormito io mi aspettavo il signore dell'anelli in sempre di Chris Wedge peraltro mio fratello però eri molto stanco io mi aspettavo il signore dell'anelli in animazione ma è basato su un romanzo per ragazzi mi pare però non c'era c'era tutto in questo film ragazzi tutto guerrieri mostri era il fantasy più totale il cattivone incredibile l'epicità proprio allo stato puro spadoni frecce archi però c'era talmente tanto che sono rimasto un po' annoiato da questo film visivamente mostruoso senza dubbio però non no niente lo metto in C perché comunque artisticamente esteticamente tecnicamente mostruoso e e basta però non lo so non mi ha annoiato abbastanza Book of Life S questo è uno dei film ahimè più sottovalutato di sempre c'è la gente che mi scassa il cazzo giustamente anche perché è un buon film con Coco Coco l'unico film che riesce a trattare questo tema non è vero non è vero ci sono altri film che hanno trattato questo tema bene prodotto tra l'altro se non erano dal mio fratello del toro e regista messicano che racconta questa storia questa si epica fiabesca viene raccontata a questi ragazzetti in un museo ora la memoria si però mi pare con queste statuette di legno che poi si animano e diventano le protagoniste di questa storia nella realtà quindi è un film nel film c'è questa storia questa favola raccontata con Pupazzetti poi Pupazzetti effettivamente iniziano ad animarsi a seguire questa storia molto bene molto bella perché ovviamente è piena di colori fantasie incredibili idee pazzesche perché comunque si parla del Diaz dello Smertos ovvero il mondo dei morti messicano quindi immaginatevi è una fiaba è una fiaba né più né meno con l'eroe con la donzella in difficoltà una rivalità tra tra protagonisti ciaddoni però è bello perché ha tantissimo cuore perché si parla della morte si parla della perdita con una poesia e con una naturalezza stupenda la morte c'è ci accompagna sempre ma la dobbiamo accettare dando il meglio nella vita e come si dà il meglio nella vita partecipando a questa storia coloratissima dove bisogna salvare la donzella in difficoltà scontrarsi attraverso la musica e attraverso anche delle altre arti che non vi spoiler perché dovete assolutamente guardare il film e attraverso questi colori accesissimi bellissimi attraverso questa fantasia soprattutto quando ci si tuffa nel mondo dei morti veramente inconcepibile un film sottovalutato che in pochi hanno visto ma che dovrebbero vedere tutti per capire cosa cazzo si può fare con l'animazione che non si potrebbe assolutamente fare con gli attori veri oddio Ferdinand Ferdinand era un po' tipo Rio l'ho visto era carino però cioè tanto Ferdinand fa parte di quei film appunto tipo Rio tipo anche qualche sequel dell'era glaciale ma anche di il pari di Bartok per me cioè quei film che guardi esci dal cinema e fai ok sì carino ma si vede che è un prodotto fatto esclusivamente per i bambini che non tenta non scava non vuole proporre qualcosa di più perché non gli interessa nemmeno è un film per sbigliettare è un film per colpire più che altro le generazioni più piccole che portano che vengono portati ovviamente al cinema dai genitori e vaffanculo basta ci si ferma qui non ci si sta nemmeno troppo a pensare ecco a Fennel quindi io lo darei gli darei una bella D e passa la paura basta questo non l'ho visto e Ortone proprio l'ho rimosso anche se l'ho visto va bene ho 5 film in S 2 film in A 3 film in B 3 film in C e poi questa robaetta qua è andata mia male comunque Fox Animation Studios bravi eh e Blue Sky chiaramente di conseguenza bravi bravi oh almeno dal mio punto di vista avete fatto sempre un buon lavoro tutto sommato ogni tanto prendete qualche cantonata ogni tanto fate qualche film per incassare ma lo fanno tutti quindi ci mancherebbe